Addio autobus, il comune pensa ai filobus elettrici, in arrivo una mini rivoluzione per la viabilità grazie ai soldi inizialmente previsti per il metro, 237 milioni che verranno usati per nuovi mezzi e per il servizio ferroviario metropolitano. Momenti di paura a San Lazzaro in via della Repubblica per un forte scoppio dovuto al tentativo di scassinare il bancomat dell'agenzia BNL, i rapinatori hanno fatto esplodere lo sportello che però ha resistito costringendoli a fuggire. Bologna rimane tra le città più care d'Italia per ciò che riguarda gli affitti mentre la crisi fa scendere ovunque i prezzi delle locazioni sotto le due torri questo non avviene. Le zone più economiche sono la Barche e la Bolognina, la più cara al centro. Luca Carboni profeta in patria nella sua città, il cantautore bolognese sarà domani sera all'Europa Auditorium con il suo senza titolo tour che racconta storie di viaggi, province e amori degli anni 80 ad oggi. Buonasera telespettatori, dopo giorni di forti polemiche potrebbe essere il maltempo a risolvere la situazione, a spazzare via l'inquinamento e contemporaneamente anche i blocchi alla circolazione previsti per la prossima settimana che avevano a dire il vero sollevato non pochi malumori. E' in arrivo infatti tra poche ore proprio una perturbazione che porterà vento e piogge ed anche un notevole abbassamento delle temperature. Il servizio di Marco Rossi. E alla fine più che le polemiche potè il meteo. Saranno infatti probabilmente il forte vento e le piogge previste per i prossimi giorni a convincere la regione ad annullare i blocchi al traffico previsti per lunedì e martedì prossimi. Blocchi che avevano provocato un duro scontro con le associazioni dei commercianti. L'assessore regionale all'ambiente Sabrina Fredda precisa che la decisione verrà presa domani durante l'incontro con gli enti locali firmatari dell'accordo per la qualità dell'aria. Ma, ammette, l'ARPA ha fatto delle previsioni che porterebbero a un abbattimento dello smog. L'assessore ribadisce comunque che alla regione spetta solo un ruolo di coordinamento, che i responsabili della salute pubblica sono gli amministratori e che tutte le decisioni erano state già prese in maniera condivisa con i sindaci. L'idea del blocco per lunedì e martedì era nata parlandone insieme. Si era escluso giovedì 15, cioè oggi per via dello sciopero dei bus, il weekend perché già porta un abbassamento del traffico e giovedì 22 perché troppo a ridosso del Natale. Si era pensato quindi a due giorni di stop, il 19 e il 20, che però avevano provocato durissime reazioni da parte delle associazioni dei commercianti, Ascom e Confesercenti, preoccupate perché questo blocco, proprio a ridosso del Natale, avrebbe potuto creare problemi agli acquisti. Ma ora sta arrivando il maltempo e nonostante la situazione delle polveri sottili resti critica, la probabile pioggia dei prossimi giorni e un vento teso da nord proprio per lunedì e martedì porteranno a un miglioramento della situazione smog. Comunque dall'incontro di domani, oltre al passo indietro sul blocco, potrebbero venire fuori proposte soft, come ad esempio un'intensificazione del servizio navette per favorire comunque un uso minore del mezzo privato. Infine a chi mette in dubbio l'efficacia del blocco del traffico, l'assessore risponde che dieci anni di accordo per la qualità dell'aria hanno portato a una diminuzione media del 25% delle PM10. La priorità deve essere la tutela della salute, dice Freda, anche con provvedimenti scomodi ma necessari. Che poi si è davvero provata l'efficacia di questi provvedimenti è tutta un'altra storia. I filobus sostituiranno gli autobus in tutte le principali direttrici della città. Lo ha spiegato questa mattina il sindaco Virginio Merola e dopo l'ok del Ministero una parte dei fondi saranno utilizzati anche per il servizio ferroviario metropolitano. Vediamo allora il servizio di Giuseppe Pilloni. Dopo il via libera concesso ieri dal Ministero dei Trasporti, i soldi del metro di Bologna potranno essere utilizzati per il servizio ferroviario metropolitano e per la rete dei filobus. Questa mattina il sindaco Virginio Merola ha specificato ulteriormente come saranno spesi quei 237 milioni. Facciamo la rete filoviaria in tutte le principali direttrici di traffico, dice Merola. Corticella, Casalecchio, Pilastro, la 14, la 13, la 11. Una buona parte di questi soldi, spiega, verranno usati per sostituire gli attuali bus urbani con filobus. In maniera tale che a progetto realizzato gli autobus saranno quasi del tutto soppiantati dei mezzi elettrici. Ora abbiamo i soldi, argomenta il primo cittadino, che invita comunque ad aspettare la promessa delibera CIP prevista entro fine anno sul dirottamento dei fondi. Fondi che saranno gestiti dalla New Conat, dalla fusione ATC-Ferr e saranno come noto utilizzati anche per completare il servizio ferroviario metropolitano, cioè i trenini dei pendolari spesso oggetto di polemica per i ritardi delle corse e le condizioni delle carrozze. A quanto pare saranno anche realizzate cinque nuove fermate, Prati di Caprara, San Vitale, Rimesse, Sant'Ursola, Zanardi e Borgo Panigale. Merola non nasconde la soddisfazione. Sì, è una tappa importante. Si sono riusciti a dirottare le risorse del metro sul servizio ferroviario metropolitano e su una completa rete di filobus è quella scossa elettrica che aspettavamo da tempo. Quindi dal prossimo anno si comincerà tutte queste opere che comprendono le stazioni, il materiale rotabile, cioè i treni nuovi e i nuovi filobus. Diciamo che per questo mandato e per il prossimo c'è la possibilità di prendere davvero misure per il traffico importanti, avere il trasporto pubblico, avere il sistema ferroviario che potrà avere una cadenza di ogni quarto d'ora all'interno della città sarà molto importante, proprio nel momento in cui abbiamo deciso di andare avanti con il piano per la pedonalizzazione del centro storico. Quindi è un'ottima notizia per la città e anche la possibilità di investimenti in un momento in cui ce n'è un estremo bisogno. È alta l'adesione dei dipendenti ATC allo sciopero dei trasporti proclamato da CGL Cisle Will in corso oggi. Secondo i primi dati diffusi dall'azienda si è fermato l'85% del personale e di conseguenza sono stati pochissimi gli autobus che hanno circolato in mattinata. A differenza di altre città, Bologna sono stati accorpati nella giornata di sciopero i servizi di trasporto urbano ed extraurbano. L'orario in cui gli autisti incrociano le braccia è stato dalle 8.30 di questa mattina alle 16.30 del pomeriggio e poi anche dalle 19.30 fino al termine del servizio. Ma per chi usa il trasporto pubblico i disagi non finiscono qui perché alle 21 di questa sera scatterà uno sciopero di 24 ore degli addetti del trasporto ferroviario. Ed ora siamo alla cronaca. Decine di cittadini di San Lazzaro di Saverna sono stati svegliati nel cuore della notte da una banda di malviventi che hanno fatto saltare lo sportello Bancomat della centralissima BNL di Via della Repubblica proprio appunto in centro a San Lazzaro. I sistemi di sicurezza dell'agenzia bancaria hanno però resistito al tentativo dei banditi che sono dovuti fuggire a gambe elevate e soprattutto a mani vuote. Gabriele Sciarra La banda dei Bancomat è entrata in azione nelle prime ore di questa mattina a San Lazzaro di Saverna attorno alle 4 con una Fiat Punto risultata poi rubata i malviventi hanno sfondato la vetrina dell'agenzia BNL Paribas di Via della Repubblica nel centro del comune alle porte di Bologna poi con una bombola di acetilene hanno tentato di far saltare la cassaforte con il contante che rifornisce lo sportello Bancomat ma i sistemi di sicurezza hanno resistito ai tentativi degli scassinatori nel frattempo decine di cittadini dello stabile sovrastante svegliati di soprassalto dal fragore dello scoppio hanno chiamato i carabinieri diverse le pattuglie che a quell'ora controllavano il territorio e in pochi minuti una gazzella è arrivata sul posto degli scassinatori però nessuna traccia troppo complicato e quindi troppo rischioso evidentemente portano a termine il piano vista la resistenza dei sistemi di protezione delle banconote qualcuno ha poi riferito ai carabinieri di avere visto quattro individui allontanarsi di corsa con una vettura scura, probabilmente la stessa usata per il tentativo di scasso i militari hanno subito avviato per lustrazioni per individuare i componenti della banda che però, seppure a mani vuote, sono riusciti a far perdere le loro tracce Ancora cronaca, un venezuelano incensurato è stato trovato in possesso di circa tre etti di cocaina dalla polizia ferroviaria di Bologna e arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e spendita di monete falsificate Martedì l'uomo arrivato a Fiumicino con un volo da Caracas si è presentato all'ufficio cambiavalute della stazione ferroviaria di Bologna chiedendo di cambiare 600 dollari palesemente contraffatti l'intervento degli agenti ha dato il via ad una serie di accertamenti che hanno portato la polfera in una camera d'albergo a Pianoro dove il sudamericano aveva preso alloggio anziché altre banconote fasulle la polizia ha trovato un involucro di plastica occultato in bagno con nove ovuli di cocaina che il corriere aveva espulso dopo il suo arrivo in Italia dopo un breve controllo in ospedale l'uomo è stato poi trasferito nel carcere della Dozza e cambiamo argomento sul mattone Bologna si conferma davvero la città più cara le locazioni rimangono stabili senza calo per i canoni con aumenti dello 0,1 e dello 0,3% questa l'oscillazione ma andiamo a vedere più nel dettaglio il servizio di Alessia Salvatori Affitti stabili sotto le due torri in controtendenza rispetto alla maggior parte delle grandi città italiane Bologna nel primo semestre del 2011 non ha evidenziato cali nel valore dei canoni registrando un più 0,1% per i bilocali e un più 0,3% per le abitazioni con tre stanze è quanto emerge dal report sul mercato degli affitti redatto a livello nazionale da Tecnocasa se il trend generale indica un calo medio degli affitti dello 0,4% il capoluogo emiliano con Bari e Torino fa eccezione sotto le due torri per affittare un bilocale si spendono in media 520 euro al mese mentre per una casa più grande il prezzo può salire a 630 valori tra i più alti rilevati tra quelli delle grandi città se si escludono le solite Firenze, Napoli, Milano e Roma per un bilocale si va dai 450 euro richiesti alla Bolognina ai 650 nella zona di Piazza Galvani mentre per i trilocali le soluzioni più economiche sono in zona barca e ancora alla Bolognina sui 550-570 euro il prezzo sale in centro fino agli 850 euro in via urbana ed intorni cara anche la zona universitaria con 700 euro di media l'analisi demografica dei potenziali inquilini realizzata a livello nazionale ha evidenziato che nel primo semestre del 2011 il 45,6% è rappresentato da single il 37,4% da coniugati e il 13,3% da separati il 48% di coloro che cercano casa in affitto ha tra i 18 e i 34 anni e il 27,2% tra i 35 e i 44 infine il contratto di locazione più praticato è il canone libero 4 più 4 anni seguito da quello ad uso transitorio fanalino di coda, i canoni concordati E ancora una notizia di cronaca incidente stradale mortale ieri sera è avvenuto all'inizio dell'A14 in direzione sud a Bologna dopo le 22 una persona è morta e altre due sono rimaste ferite una in modo non grave la vittima è rimasta incastrata fra le lamiere dell'abitacolo di un camion due i mezzi pesanti coinvolti nell'incidente mentre un terzo ha soltanto perso il carico era punta sulla formazione e crea un suo Ateneo se ne è parlato questa mattina in un convegno che si è svolto proprio a San Giorgio in Poggiale a Bologna c'è stato per noi Giuseppe Piloni una corporate university una università aziendale che permetta ai dipendenti di ERA di ricevere elevati livelli di formazione e contestualmente ridistribuire sul territorio tutto il patrimonio di conoscenza maturato il progetto ribattezzato ERA Academy è stato presentato da ERA in un convegno a San Giorgio in Poggiale in Vienazzaro Sauro a Bologna e punta a creare il primo polo di ricerca e formazione di taglio universitario tra le utility locali a dare sostegno alla nascita di una sorta di Ateneo interno al colosso energetico Emiliano Romagnolo una ricerca condotta dal CRISP centro interuniversitario sui servizi di pubblica utilità che ha attestato gli standard qualitativi della formazione all'interno della utility bolognese allineati alle migliori esperienze internazionali del settore per il 2011 viene osservato nella ricerca si prevedono in media circa 23 ore di formazione per dipendente rispetto alle circa 20 erogate in media dalle altre aziende del settore e si prevede il coinvolgimento di quasi tutta la popolazione aziendale circa il 95% in almeno un'iniziativa formativa abbiamo noi da sempre dato grande importanza al fattore lavoro che vuol dire conoscenza e sviluppo della conoscenza noi nella nostra missione abbiamo e vogliamo essere la migliore multi utility per i clienti, i lavoratori, gli azionisti quindi il fattore lavoro per noi è una componente fondamentale della crescita e del successo dell'azienda ci siamo anche resi conto in questi anni che la conoscenza del nostro gruppo ha messo assieme delle esperienze uniche, abbastanza originali le competenze tecniche, la capacità di stare sul mercato la grande attenzione alle problematiche di sostenibilità tutto questo ci porta ad avere un livello di conoscenza abbastanza originale che vogliamo con questa esperienza di Air Academy valorizzare e rendere fruibile anche in un confronto con l'università per avere poi un ritorno all'interno dell'azienda Ed ora ci fermiamo per un attimo, arriva la pubblicità rientreremo in studio fra poco, restate con noi Ancora in diretta con ETG rivediamo insieme gli argomenti del nostro telegiornale potrebbero essere revocati blocchi al traffico previsti per lunedì e martedì prossimi è in arrivo infatti un'ondata di maltempo con piogge e vento che dovrebbero abbattere lo smog decisione definitiva domani Addio autobus, il comune pensa ai filobus elettrici in arrivo una mini rivoluzione per la viabilità grazie ai soldi inizialmente previsti per il metro 237 milioni che verranno usati per nuovi mezzi e per il servizio ferroviario metropolitano Momenti di paura a San Lazzaro in via della Repubblica per un forte scoppio dovuto al tentativo di scassinare il bancomat dell'agenzia BNL i rapinatori hanno fatto esplodere lo sportello che però ha resistito costringendoli alla fuga Bologna rimane tra le città più care d'Italia per ciò che riguarda gli affitti mentre la crisi fa scendere ovunque i prezzi delle locazioni sotto le due torri questo non avviene le zone più economiche sono la barca e la bolognina la più cara il centro storico Luca Carboni profeta in patria nella sua città il cantautore bolognese sarà domani sera all'Europa Auditorium con il suo senza titolo tour che racconta storie di viaggi, province e amori dagli anni 80 ad oggi ed ora andiamo avanti con il nostro telegiornale BMW Kids Tour sbarca sotto le due torri sarà una due giorni dedicata alla sicurezza stradale e protagonisti saranno proprio i più piccoli, i bambini dai 4 ai 14 anni andiamo a vedere qualche anticipazione in questo servizio automobili e moto giocattolo che sfrecciano su strade costellate da segnali stradali gonfiabili piccoli poliziotti con paletta alla mano e alla fine del percorso una patente junior tutto questo è il BMW Kids Tour organizzato dalla nota casa automobilistica in collaborazione con la polizia stradale con il contributo dell'Antoniano di Bologna e così visto che la sicurezza si impara da bambini quale modo migliore per iniziare a muovere i primi passi sulla strada se non al villaggio della sicurezza che sarà allestito nel prossimo weekend alla sede di autovanti di Via del Lavoro a Granarolo alle porte di Bologna un'occasione per i più piccoli per divertirsi e giocare a fare i piloti per i più grandi invece è un'opportunità per fare un ripasso delle principali regole stradali il BMW Kids Tour è un'attività che coinvolge utenti molto piccoli della strada perché parliamo di bambini che vanno dai 4 ai 10-12 anni ben visto poi come adesioni e questi bambini sono coinvolti giustamente in 5 attività sono 5 attività di gioco il bambino si diverte facendo queste attività però è un gioco molto formativo quindi in queste attività impara delle nozioni di base di come vivere anche la strada non bisogna dimenticare che il bambino è comunque un utente della strada non è la guida di un'auto però convive con le auto e sarà poi un guidatore di domani staremo insieme ai bambini e ai loro genitori per insegnare le regole di base del vivere civile in particolare della circolazione stradale la psicologia ci insegna che ciò che viene appreso a questa età praticamente viene assimilato per sempre nel proprio DNA e quindi praticamente aiuteremo a costruire gli autisti del domani la musica a Bologna con un cantautore bolognesissimo Luca Carboni che domani sera sarà all'Europa Auditorium con il suo senza titolo Tour 2011 in cui l'autore racconterà di storie di viaggi di provincia e soprattutto degli amori dagli anni 80 ad oggi da palcoscenico in Alessia Salvatori Il 16 dicembre al Teatro Europa Auditorium di Bologna arriva o per meglio dire torna Luca Carboni un cantautore bolognesissimo che presenta il suo nuovo Tour senza titolo naturalmente diverse le date di questo Tour di Carboni e Bologna non può mancare Assolutamente per noi sarà tra i protagonisti di quella sezione alla musica leggera a cui ovviamente l'Europa Auditorium è ispirato da tanti anni come teatro musicale e che il pubblico gradisce molto l'essere insieme al musicale e la danza e diciamo ad aprire questa carellata di artisti, di cantanti sarà proprio Luca Carboni che è un amico bolognese di nascita e avremo il piacere appunto di ospitarlo il 16 dicembre qui al Teatro Europa Auditorium dopo il successo nel 2009 di Musiche Ribelli che registrò il tutto esaurito siamo contenti come teatro di ospitarlo ma credo che Bologna a prescindere nella vita di Luca Carboni ha sempre segnato un momento molto importante e anche questo album ritroverà un po' di atmosfere insomma, della nostra città io l'ho sempre considerato Luca un grande precursore i suoi testi sono sempre stati molto avanti a livello di contenuti e insomma ci piace molto poterlo ospitare appunto in questo nuovo tour per questo nuovo concerto e dopo la musica ancora la pubblicità rientreremo in studio fra poco e non mi restano che i saluti grazie a tutti per averci seguito vi auguro ancora una volta un buon proseguimento di serata grazie grazie tra poco il notiziario di ETV tutti i fatti la cronaca e la politica della tua città i clienti della pasticceria Creme e Gusto affermano che i prodotti sono fantastici e che il personale è simpatico la pasticceria Creme e Gusto garantisce la qualità con la formula soddisfatti o rimborsati siamo a Funo sul confine con Castel Maggiore per servirvi prelibatezze dalla colazione a pranzo fino all'aperitivo serale potrebbero essere revocati blocchi al traffico previsti per lunedì e martedì prossimi in arrivo infatti un'ondata di maltempo con pioggia e vento che dovrebbero abbattere lo smog decisione definitiva nella giornata di domani addio autobus il comune pensa ai filobus elettrici in arrivo una mini rivoluzione per la viabilità grazie ai soldi inizialmente previsti per il metro 237 milioni che verranno usati per nuovi mezzi e per il servizio ferroviario metropolitano momenti di paura a San Lazzaro in via della Repubblica per un forte scoppio dovuto al tentativo di scassinare il bancomat dell'agenzia BNL i rapinatori hanno fatto esplodere lo sportello che però ha resistito costringendoli alla fuga Bologna rimane tra le città più care d'Italia per ciò che riguarda gli affitti mentre la crisi fa scendere ovunque i prezzi delle locazioni sotto le due torri questo non avviene le zone più economiche sono la barca e la bolognina la più cara il centro storico Luca Carboni profeta in patria il cantautore bolognese sarà domani sera all'Europa Auditorium con il suo senza titolo tour che racconta storie di viaggi province e amori dagli anni 80 ad oggi di viaggi di viaggi di viaggi di viaggi